La donna non è inferiore all'uomo, è superiore sul piano del diritto, sia nella materia che riguarda il diritto familiare, sia nella materia di affidamento dei bambini, sia nella materia che riguarda femminicidio e stalking. Io sono l'uomo più stalkizzato che ho mai incontrato, non denuncerei mai una donna che mi tocca o che viene verso di me. Ho trovato donne che denunciano anche, e l'ho detto pubblicamente, 20 giorni di offerte di fiori. Quanto all'ospedequazione degli stipendi non c'è nei dipendenti pubblici, professori, ambasciatori, prefetti, questori, certo c'è un 5% nei dipendenti privati, ma anche quelle non possiamo dire che abbiamo un vantaggio. Ma la cosa visionaria, per cui si aggiustano i ricordi, è la televisione, non vi ricordate il caso Sabani, il caso Boncompagni? Perché non viene fuori la televisione, dove il mondo è lo stesso? E perché non dobbiamo riconoscere una suggestione quando la famiglia di Argento evoca il Mossad, il Mossad per dire che dopo Weinstein la figlia di Dario Argento è minacciata o addirittura che è colpa di Berlusconi, che è colpa del mondo di Berlusconi, è sempre colpa di Berlusconi. Sono interpretazioni di allucinazioni di persone che hanno detto cose, ma di cui devo ancora capire perché con il loro violentatore sono state tranquillamente esposte in fotografie, in incontri, ed è il caso che abbiamo visto, ma che non sarebbe certamente il caso, di uno che rimproveri a un uomo una violenza. Non ti metti ad andare in giro e a sorridere, abbracciata a quello che ti ha violentato. Vittorio, succede a milioni di mogli di restare col marito violentatore. Vittorio, purtroppo noi siamo anche Visconti e Pasolini. Pasolini è morto per aver cercato troppo da un uomo. Ma è il caso di una persona, non dico quale, che lamenta che si è stata violentata con il cunnilingus, che è una violenza un po' diversa da quella di un uomo sopra di te e che poi vedi dopo dieci anni sul red carpet, abbracciata alla persona che l'ha violentata, quella non ha titolo a protestare, perché ha accettato una cosa anche immonda e discutibile, ma per un vantaggio che è stato uno scambio, è stato un commercio in cui lei ha deciso di cedere qualcosa per un vantaggio, altrimenti non abbracci il tuo stupratore. Non credo che la nostra bella interlocutrice abbraccerebbe quel calciatore, si vorrebbe poter fare con lui, perché la sua è una violenza sofferta, ma una violenza non sofferta e rivendicata come tale è un'invenzione che serve in un momento in cui c'è una tendenza. Abbiamo parlato di tangentopoli, vi ricordate che dieci anni fa c'era la pedofilia ogni 30 secondi? Sono come delle tendenze, in alcuni casi reali, in alcuni casi sono delle mitizzazioni. certamente con troppo ritardo, io posso dire quello che mi ha detto Ornella Vanoni con una battuta formidabile, dice ho deciso di denunciarti per le tue mancate molestie, perché non mi hai molestato 30 anni fa? Non me lo meritavo? Ornella Vanoni ha liquidato in modo intelligente quella che oggi è una tendenza di una moda opposta.